Buongiorno a tutti il popolo di YouTube, Fuzzgero88 di Bancomati. Allora, a quest'oggi portiamo promo Nutella e sound. E che classe, e vedi come si muove le Bancomati? Sì, sì, vero bene. Prossimo, oltre a roba da comprare eccetera eccetera, corso di ballo per la nostra utenza. Fammi dimagrire un po' che siamo un po' più presentabile. Ok, allora andiamo un attimo nell'angolino in modo che riusciamo a spiegare tutto un po' meglio. Vai, che vi facciamo vedere un po' le belle cose. Ok, adesso che siamo nell'angolino, illuminaci un attimo su questa promo Nutella, che è sicuramente interessantissima. Sì, allora, vi consigliamo di partecipare in quanto è un premio sicuro, non c'è da giocare, non c'è da vincere, non c'è da pregare il Signore. Qua compri e ti arriva a questa cassa. Spettacolo. Sì, è una cassa Bluetooth, utilissima. Abbiamo visto che come anche nelle descrizioni, come dati tecnici, sì, si difende bene, lo so, in piscina, in casa mentre fai i mestieri, al mare e spiaggia, colleghi Bluetooth del telefonino e ti spari su un po' di musica. Preciso. Spettacolo. La cassa è veramente bella, vi consigliamo di partecipare se utilizzate questi prodotti, se dovete comprarli apposta vedete voi, però valutate. Perché anche nella promo sotto Natale, con le lampade, è stato un successone. Esatto. Nel senso, io la mia ce l'ho bellissima, l'ho recuperata per mia mamma, per Monica, per la mia ragazza, per Cuba, per tutti. Vuoi far vedere la grandezza della lampada che... Vuoi prendere la lampada, è la, è la, la vedi? Fuori onda un attimo, fuori onda, fuori onda, fuori onda. Fuori onda, adesso monta solo qui. No, perché io abito in un setti locale e quindi la stanza è molto lontana. Adesso mi senti Michele? Senti, senti, senti. Anche Cuba, Cuba, lo senti? Lo senti Cuba? Sì, senti Cuba. Morati a agitare, aspetta. Prima facciamo vedere questo qua, era il premio sicuro. Questo qua era il premio sicuro che ci dava Nutella, un po' fa. Lampadina si illumina, il tapo è applicabile su tutti gli altri barattoli, grandi e piccini, quello che vuoi. Ricarica USB, batterie. Una figata, eh? Zack, 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 zack. Una figata devastante. Va bene, la lasciamo accesa perché fa più luminosità. Poi, praticamente, tornando a noi, comprando due barattoli, della versione da 825 grammi o da chilo in qualsiasi supermercato, potete richiedere entro 25 di giugno, quindi datevi una mossa, la cassa Bluetooth. Ora non ce l'abbiamo perché la prova è appena partita, in qualsiasi caso te la consegnano dopo poco. Stiamo pure facendo luce sulla prova. Niente, vi consigliamo anche perché noi l'abbiamo comprata senza scopo di lucro. L'abbiamo comprata per noi, però l'abbiamo visto a lampade del genere, su web sono state vendute anche a 60 euro. Sì, anche perché poi diventerà una roba di mischia. E comunque valido, cioè per gli amanti, il regalo di Natale. Tu una Nutella la devi comprare, perché comunque è già una cosa bella. Sei obbligato, sei obbligato. Niente, la prova è veramente facile, in quanto appunto è un primo sicuro. Dura fino al 25 giugno 2017. Se avete dubbi, ci linkano direttamente anche il numero di telefono da... C'hai dubbi? Dai, sentiamo. Fammi sentire, fammi sentire se c'ho dubbi. Vedete, il numero è 06 91 81 04 01. Sì, pronto? Ho dei dubbi. Ha dei dubbi, apposta. Se avete dubbi, contattate. Qualsiasi cosa sono disponibili, in quanto che noi ci siamo già rivolti per chiedere delle informazioni. E niente, davvero, roba facilissima e bellissima. Speriamo che Nutella, la prossima volta, dia in regalo una scrivania più grande, perché con tutte le puttano a colmesto, non c'è una scrivania più grande. Nel canale Salaventano, se riusciamo a fare tanti premi, qua voglia. No, dai, ragazzi, vi consigliamo perché è molto bella. È una cosa anche come regalo, è davvero bello. Esatto, esatto, esatto. Io a questo punto direi di tornare grandi, di tornare... Sì, grandi, grandi, piccole, giusto? Sì, grandi. Ok, Michi. Oh, sì, ok. È avuto un attimo di sbagliamento. Gli zuccheri ci danno? Mi sono sentito super male, un attimo. Va bene, dai. Va benissimo. Ragazzi, grazie per averci seguito. Io a questo punto direi un cash flow dei informati. Soliti link in descrizione. Un salutone, continuate a seguirci. Hai dei dubbi? Sì. Hai dei dubbi? Perfetto. Commentate, spolliciate. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. E mi raccomando, continuate a seguirci come state facendo. Un grosso ciao ancora. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, che spingosanata. Bye. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti